E' stata svelata la targa apposta proprio accanto al portone in cui ha vissuto i primi momenti di vita Giuseppina Giovanna Panzica, nata a Caltanissetta nel 1905. Uno splendido esempio di straordinario coraggio e di incrollabile fede nel valore della libertà. E' così che viene definita nella targa colei che ha anche ottenuto la medaglia d'oro al Valor Civile e alla quale è stata intitolata l'intera strada in cui insiste quel portone, precedentemente via Piazza Almerino. E' stato grazie a un colonnello della Guardia di Finanza, il colonnello Severino, che è venuta alla luce questa storia. Lei era nata a Caltanissetta proprio al numero 6 della via ex Piazza Almerina, oggi porta il suo nome via Giuseppina Panzica. Ma subito dopo il matrimonio si trasferì a Chiasso, a Ponte Chiasso, al confine con la Svizzera. E da lì, proprio dal cortile di casa sua, grazie alla collaborazione di un finanziere, Gavino Tolis, riuscì a far passare ebrei, documenti, persone, soldi anche per aiutare le brigate partigiane. Purtroppo pare che ci sia stata una delazione da parte di qualcuno. Insomma, la Gestapo comunque venne a sapere di questo traffico e lei fu arrestata, dapprima deportata a San Vittore, poi nel campo di concentramento di Ravensbruck, dal quale fortunatamente riuscì a tornare dopo la liberazione. Però di lei non si era saputo niente. Noi abbiamo saputo, grazie al lavoro appunto di questo colonnello severino, ma anche ai familiari che poi siamo riusciti a rintracciare, abbiamo messo insieme questa storia. Ci sembrava giusto rendere omaggio a questa donna intitolandole appunto la via dove è nata. Un'iniziativa voluta dall'Associazione Onde Donne in Movimento, che ha avviato l'ITER circa due anni fa e che è stata abbracciata dall'amministrazione comunale, alla quale hanno aderito anche altre realtà locali, quali Lampi, la cooperativa Etnos e la società nissena di storia patria. Alla cerimonia avvenuta nel giorno della memoria, hanno partecipato anche alcuni studenti in rappresentanza di sei istituti superiori della città. Questo è un momento importante perché diamo spazio veramente all'importanza di una donna che si è distinta in Italia per atti di grande importanza, di origine appunto nissena. Per quanto riguarda i residenti voglio rapidamente dire che faremo in modo che minimizzeremo al massimo quelli che sono i disagi legati a un cambio toponomastico. Provvederemo a fare in modo che tutte le attività necessarie per il cambio sui documenti, sulle parti catastali eccetera, venga seguito in prima persona dall'amministrazione.